Cos'è un'Olimpiade? Un'Olimpiade è un sogno non per il ciclista ma per un atleta e per una persona che sta a casa. Ciao ragazzi, in questa nuova puntata di Ruota Libera si parlerà di ciclismo femminile, un movimento in continua crescita che sta ottenendo piano piano lo spazio e il rispetto che merita. Parleremo poi delle nostre azzurre che sono loro, le ragazze, quelle che ci viziano da anni a suon di risultati portando a casa le medaglie che più contano e quest'anno non ci saranno solo campionati europei, campionati del mondo ma ci saranno anche le Olimpiadi e qui con me ci sono due ospiti, due grandi ospiti e ve li presento subito Tatiana Guderzo, lei che per anni ci ha viziato e portato a casa le grandi medaglie, campionessa del mondo a Mendrisio, medaglia di bronza alle Olimpiadi e poi il CT della Nazionale. Paolo Sangalli, ciao ragazzi. Ciao a tutti. Come va intanto? Bene, sì sì, una nuova vita, una situazione completamente diversa ma emozionante e diciamo anche abbastanza difficile. Dai mi sono allenata tanti anni per raggiungere questo risultato. 20 anni da professionista, 20 anni di carriera e tantissimi risultati. Io mi sono dovuta scrivere qualcosina perché ho una memoria insomma che fa desiderare 14 vittorie in carriera tra cui appunto il Mondiale a Mendrisio, un Giro dell'Emilia, terza le Olimpiadi di Pechino, seconda al Giro d'Italia 2013, cinque volte campionessa italiana a crono, 15 volte in totale campionessa italiana tra strada e pista e quindi quante soddisfazioni ci hai regalato Tatiana. E Paolo, Paolo come stai intanto? Bene, bene, grazie. Bello essere qui vedervi, vedere Tatiana e tu Giada in un anno, come hai detto tu, particolare, però bello. Paolo, CT della Nazionale Femminile dal 2021 ma con tanti anni da secondo, diciamo, da collaboratore tecnico di Dino Salvoldi, ben 12 e il vostro percorso è un percorso che vi ha visto uniti per appunto tanti anni, anche un percorso fortunato perché appunto dal 2003 hai partecipato a ben 18 mondiali consecutivi non so se è un record, Tatiana, questo. Sì, io inserisco anche il 2002 che avevo fatto il mio primo mondiale da junior, ma sì, ho preso la maggiore età in maglia azzurra. C'è vero, vero, sei diventata maggiorenne con la maglia azzurra e incredibile perché al mondiale di Mendrisio che hai vinto in ammiraglia al debutto... Vero, vero, vero. C'era Paolo Sangalli. Infatti Tatiana, quando penso alla prima volta e quella medaglia vinta perché avevamo una squadra fortissima, Tatiana era fortissima, Noemi Cantela andava forte anche lei, terza, ma quel giorno lì... Anche il giorno prima ci siamo divertiti, no? Al centro commerciale, eh? Esatto. Aspetta. C'è stato un... Diciamo che io non sono tanto superstiziosa, però quegli anni lì... Quell'anno lì ho fatto tre vittorie e il giorno precedente alla vittoria andavo sempre a fare shopping, a comprarmi qualcosa. Capito. Come augurio, come premio in anticipo della gara, non so perché quell'anno lì è successo così. Tant'è che gli avevo raccontato che tutte le altre vittorie erano state fatte con una determinata scaletta, nel senso che il giorno precedente andavo a comprarmi qualcosa. Avevi i tuoi ritti. Esatto, avevo i miei ritti. E lui mi fa, no, 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 via, 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 non si deve cambiare la situazione, da lì mi ha portato a un centro commerciale, ma non trovavo niente, a un certo punto mi fa, compra qualcosa. Allora mi sono comprato uno smalto. Esatto, sì. E il giorno dopo, insomma, ha portato fortuna. Raccontiamo sta cosa degli smalti comunque, perché lei ha lanciato la moda delle unghie colorate, perché adesso tutte con queste unghie belle e azzurre, ma una delle prime a arrivare al campionato del mondo europeo o qualsiasi appuntamento importante, soprattutto con la nazionale, con le unghiette azzurre belle fatte da mostrare al mondo, sei stata tu. Esatto, è facile copiare, invece io sono stata una delle artefici. No, ero, sì, mi è sempre piaciuto mettermi lo smalto, era una cosa che mi ha insegnata mia mamma da piccolina il sabato sera ed è una cosa che ho sempre portato avanti, ho detto ma io di domenica voglio correre con le unghie fatte bene, visto che non posso mettermi i tacchi, visto che non posso mettermi il vestitino perché sono a correre, comunque sono donna e volevo sentirmi a posto e mi pitturavo le unghie, logicamente blu per la maglia azzurra e durante le altre gare con la squadra, in base al colore della squadra o allo stato in cui ero, è stata una cosa. Anche se il suo colore era il blu perché il cuore era blu dentro, no? Esatto, sono sempre stata maglia azzurra, lo sanno tutti. Infatti mia figlia è rischiato che si chiamasse azzurra. Sì, maglia azzurra anche, ti dico dopo tanti anni, vederla fa sempre l'effetto, ti viene la peredocca e deve essere una cosa che devono avere tutte le ragazze. Bisogna farlo capire alle ragazze perché portare, vestire la maglia azzurra, infatti te lo chiederò soprattutto più tardi, quando parleremo anche dei programmi di quest'anno. E appunto, beh, mi hai raccontato cos'è successo il giorno prima, raccontatemi cos'è successo il giorno del mondiale, voglio sentire ancora da te cos'hai provato quel giorno che sei andata a conquistare l'oro, sei andata a vestirti con l'iride e cos'hai provato tu della miraglia, com'è stato, com'è stata diretta quella corsa lì, raccontatemi un po' le emozioni. Ma è stato un mondiale sicuramente sentito e per un certo punto di vista era un po', io me l'ero rivisto, me l'ero sognato. Ero andata a provare il percorso a maggio da sola, avevo preso la mia macchinina perché non era ancora abitudine con la nazionale andare a visionare i percorsi, ma visto che era vicino ho preso una macchina, sono andata a provare il percorso da sola e alla terza volta che facevo il giro mi sono proprio sognata all'arrivo, che arrivavo da sola, che scantavo nell'ultima salita e sì beh anche perché se arrivavo in due arrivavo seconda, dunque potevo arrivare solo da sola, che ero sicura di vincere. E niente, il giorno, quel giorno lì è stato sicuramente emozionante, in più avevo una condizione ottimale e ci credevo, ci credevo tanto, era andato tutto bene e non è scontato che un ciclista non abbia cadute. Quello è quello Tatiana, perché lì è stato un mondiale dove sapevamo di essere forti e si incrociava le dita su ogni cosa perché tutto andasse bene e per fortuna è andato come doveva andare. Perché non sempre, c'è anche il fattore fortuna, puoi partire con la squadra più forte ma se c'è qualche inghippo in gara o il giorno prima può cambiare tutto, cambiano i piani proprio anche in gara. Sì sì ed è la cosa che ti sconvolge di più questa, parti con un'idea e può esserci nelle gare in strada l'inghippo può esserci anche dopo due chilometri magari con un corridore di una squadra che non è abituata a correre certi eventi che ti fa cadere. Sì, o una foratura o… Sì no, abbiamo vissuto un altro mondiale che cadevano tutte e non avevamo… Qual era, qual era? Vai vai, dillo, dillo! Ero in Spagna, a Ponte d'Era. Anche quello… Cioè eravamo davanti, Tatiana mi raccomando tienimele davanti, tienimele davanti, non rischiare niente. Mi ricordo che abbiamo preso la discesa, io ero in prima posizione, no in seconda posizione, in prima e in seconda posizione, cioè li avevo tutte dietro. La discesione della Bronzini che doveva fare la gara, crash caduta… Io tranquillo, mi sono detto. Impossibile, no? Impossibile, siamo le prime sei, siamo noi. E invece? Mi giro, li vuoi. Bronzini caduto. Cosa facciamo? Panico. No, panico. Dalla Miraglia sì. E anche perché non sai cosa succede. Per fortuna. Però sì, diciamo che è stata… ci sono situazioni che bisogna gestire alla grande, bisogna avere il sangue freddo sia chi è dentro alla gara come le atlete e chi è fuori in ammiraglia, cioè dentro ma… Ma soprattutto in ammiraglia che devono dare, cioè, darci delle indicazioni ferme, stabili in modo da capire… Dar sicurezza alle ragazze. Cosa si può fare, cioè dare anche come quei… quegli input che metti che io sono davanti, non so dietro cosa stia succedendo, non so se stanno rientrando, non so se sono fuori gara. Infatti dopo cinque chilometri vedo un cartello, bronzini out, un chilometro dopo bronzini in, un chilometro dopo stanno rientrando, ferma. Considerando il fatto, Tatiana, che durante la stagione si usano le radioline… In nazionale non si possono usare… L'ultimo mondiale è stato Mendrisio, quello con le radioline… Sì, almeno a memoria sì… Sì, perché mi ricordo che mi urlavano per radio, ma non sentivo nulla… No, 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 no… No, lei lo staccava, eh, di solito… No, guai, non ho mai staccato la radio, volevo, ma non staccava. Ma è stato… Fortunatamente quel mondiale lì, avevo la radiolina, mi gridavano, mi incitavano perché ero davanti, ma avevo cinque secondi la vos, cioè avevo la vos, l'amastro e la cantele… No, senti che nomi… No, le… Pippino Scarpetta… Ti viene ancora la pelle d'occa, guarda. Loro mi urlavano, ma il tifo che c'era nell'ultima salita era devastante, non sentivo nulla. Bellissimo. Non sentivo nulla. E quelli sono i ricordi che ti porti per sempre. E poi vede… Cioè, stavo vivendo un flashback, poi ho detto ma cavolo, ma io sta cosa l'ho vista in un sogno, l'ho provata e la stavo vivendo realmente e arrivare all'arrivo così come l'avevo sognata, dichiarandola anche perché a qualcuno l'avevo dichiarato che avrei detto… Ancora più difficile così. Eh, ma me lo sentivo, me lo sentivo, c'era un obiettivo… C'erano tutte le condizioni, dai, però… Ed era… Comunque è stato un successo per la squadra perché poi prima tu, terza Noemi, poi è arrivato sempre l'argento di Noemi a cronometro, quindi è stata una spedizione, quella lì di Mendrisio, veramente… Sì, si è confermato quello che è sempre stato, che quel giorno lì abbiamo la squadra più forte, poi ci può essere l'atleta più forte che ti può battere, ma il primo obiettivo è avere la squadra più forte lì. E poi sono continuati i successi, i tuoi successi Paolo, perché gli anni successivi sono arrivati altri due ori, sempre grazie a Giorgia Bronzini, a G-Long e poi a Copenhagen, fino all'ultimo oro mondiale di Elisa Balsamo nel 2021. Sì, sempre con Citi Salvoldi. Citi Salvoldi. Sì. Infatti, anche lì si è confermato la forza della squadra. Io ho anche un altro ricordo del 2017 a Innsbruck, col bronzo di Tatiana, che è stato… 2018. 2018, che è stato qualcosa di strepitoso. Sì, perché non si parla solo di ori, ma ci sono anche le altre medaglie, che sono medaglie pesanti e che contano. Lì è stato… ti ricordi, no? Madonna. Rischiamo di star fuori a quel mondiale una settimana prima. Ricordo bene anch'io. Sì, è stato un po' un terno all'otto. Durissimo, fra l'altro, un mondiale durissimo. È stato… era un mondiale durissimo. Io non ero andata a visionarlo, perché il giorno… no, il giorno stesso della partenza a maggio, che siete andati a visionare il percorso, io mi sono svegliata che stavo male, 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 male. Sono andata in pronto soccorso, mi sono stata operata ad appendicite. È vero, è vero. Dunque a maggio ero in ospedale, operata ad appendicite. Mi ricordo che il Dino mi ha scritto un messaggio dicendomi che il percorso era… per me. Mi fa, guarda, se ti prepari bene è molto… è molto per le tue corde. Però lì, quella nata lì è stata devastante. Non arrivava mai la condizione, non mi sentivo mai bene. Continuare a inseguire una… una sensazione buona. E forse è per quello che vale ancora di più quel terzo posto, no? Quando arriva un risultato così importante, al finale di una stagione, un po' deludente per te, che sei una campionessa, no? Che va sempre alla ricerca del risultato, non arriva. Finire la stagione con un terzo posto al mondiale è qualcosa di eccezionale, inaspettato anche, no? Ma io ero arrivata a quel mondiale lì, infine la condizione era arrivata, tranne che non riuscivo a dimostrare che la condizione stava arrivando, dunque dovevano andare per fiducia. E dunque ero qui, lì che continuavo a provare, provare, provare e rischiavo di rimanere fuori perché il tecnico aveva bisogno di dati alla mano, di prove. infine per fortuna mi ha convocato e da lì insomma siamo riusciti a disegnare un bel un bel disegno, un bel risultato. Un bronzo che vale oro. Mamma mia. Hai parlato di fiducia, hai parlato di fiducia, di dover dimostrare, ne so qualcosa anch'io perché insomma i posti si devono conquistare. Per fortuna in Italia abbiamo un problema di abbondanza di ragazze forti, ce ne sono tanti, quando poi il percorso è duro è anche più difficile, no? Ma bisogna sempre pur sempre dimostrare, dare fiducia a un atleta non è semplice, o meglio sappiamo chi è Tatiana Guderzo, no? Ma sappiamo anche che quando punta a un determinato obiettivo lei arriva pronta, lei c'è, è quasi sempre una garanzia, è sempre stata così. Ma come si spiega a un'altra ragazza se Tatiana Guderzo non ha mai fatto un risultato prima? Come si spiega ad un'altra? Beh, do fiducia a Tatiana perché so che lei in quel determinato appuntamento mi può portare a casa il risultato. Beh, da tecnico non è semplice. Le scelte vanno anche fatte guardando gli ordini d'arrivo, però dietro c'è una programmazione e ci sono delle tipologie di corridori come è Tatiana o come può essere Lisa Longovorghini che quando tu condividi con lei un obiettivo lo prepari e sei sicura che arriva all'obiettivo pronta, quindi ti devi basare anche sulle esperienze degli anni indietro. L'esperienza quindi conta, anche quel che ha dimostrato gli anni precedenti. Esatto, faccio un esempio, dopo l'infortunio di Lisa Longovorghini quest'anno non ha corso il mondiale, però poteva correre l'europeo. Lei dopo due tappe del giro di Romandia mi chiama e mi dice guarda non ci sono, non sono pronta, quindi io non vengo a mettere la maglia azzurra solo per portarle in giro, preferisco che corra un'altra e che dia il meglio. Si è tirata fuori lei. Esatto, questo deve essere segno di maturità. Quando arrivi a questo livello si è tranquilli. Dimostra anche l'atleta, la campionessa che è, la classe che ha non solo in bici ma anche al di fuori. E quanto valore dia alla maglia azzurra. È quello che dicevamo all'inizio, cioè la maglia azzurra ha un valore, io la porto e la vesto se so di poter dare un determinato contributo alla squadra. Esatto, ci sono... E non è da tutti eh. No, no, no. Tatiana è una di quelle che sotto la maglia di club aveva la maglia azzurra. Sì sì, un attaccamento importante. Elisa Longoborghini quest'anno quando me l'ha comunicato la telefonata è durata due minuti però sono sicuro che dopo ha avuto due settimane dove non è stata bene per questa cosa. Le donne lo sentono di più questo attaccamento alla maglia azzurra secondo voi? Ma io credo che le donne, essendo proprio donne, sono più puntigliose in tutto e più pronte al sacrificio. Nel senso che noi siamo molto più testarde e questo porta a dare a volte quello che non si sa neanche di avere. Dunque credo che nel mio caso personale sì io ero cioè me l'ero tatuata la maglia azzurra proprio e ho visto con negli anni con cui ho corso con altre ragazze tante erano veramente decisamente cioè la maglia era un traguardo poter andare in nazionale era un traguardo come raggiungere il mondiale. Dopo ti rendevi conto che stavi partecipando a un mondiale ma ricevere la convocazione era già un mondiale. Credo che le ragazze abbiano nel mio caso, nei miei anni credo che erano molto attaccate e adesso... No lo sono anche adesso però col cambiamento che c'è stato se prima la nazionale era il massimo e lo è anche adesso correndo nelle squadre World Tour le cose si sono un po'... Si può rinunciare anche a qualcosa, a qualche evento adesso. La maglia azzurra ti cambiava la carriera anche solo magari con una convocazione... Esatto adesso è diverso per... Adesso è diverso. Forse perché era proprio magari il mondiale l'europeo il giorno della visibilità massima delle ragazze e adesso invece ci sono tanti altri eventi importanti... Per fortuna. ...che danno visibilità al mondo femminile. Anche perché... Però sotto sotto secondo me sono attaccate alla maglia azzurra. Ah beh! Quello è fuori dubbio, solo che si corre in sette il mondiale in quattro olimpiade e in otto l'europeo e ci sono più di sette, otto o quattro che potrebbero correre in Italia perché in Italia ci sono tante atlete di valore. Un bel gruppo che sta crescendo. Sì, sì, sì. I tuoi mondiali, 2004, seconda a Verona a vent'anni, 2009 hai vinto a Mendrisio, poi sei stata settima anche a Firenze 2013 e terza a Innsbruck 2018, tanto per dire cosa hai fatto ai mondiali e oltre a essere sempre stata poi donna squadra, quando non c'eri tu come leader hai aiutato le altre, l'abbiamo detto prima, e poi quattro olimpiadi nel palmarès. 2004, Atene, 2008, Pechino e lì è arrivato un bronzo, un magnifico bronzo dietro a Nicole Cook e Maya Johansson. In volata. In volata. E non è cosa da poco, ragazzi. 2012 sei andata a Londra e 2016 spedizione in Brasile, anche l'Olimpiade quest'anno ha nata importantissima perché ci saranno le Olimpiadi di Parigi e tu anche lì insomma sei stata un'altra porta bandiera. Alle Olimpiadi, cos'è un'Olimpiade? Un'Olimpiade è un sogno non per il ciclista ma per un atleta e per una persona che sta a casa. Quando puoi auspicare di andare alle Olimpiadi non è che il sogno olimpico lo stai vivendo solo tu, lo vivono anche quelli che sono intorno a te perché è una cosa talmente grande e talmente mondiale perché ti guardano tutti in confronto a un mondiale su strada che per un ciclista poter indossare la maglia iridata è la cosa più importante. Le Olimpiadi ti guardano anche quelli che giocano a scacchi piuttosto che… c'è gente che va al di fuori del tuo sport. Cioè tutto il mondo dello sport è lì. Vengono accesa la tv 24 ore dunque guardano tutti gli sport dunque vieni conosciuto anche oltre all'appassionato ciclista ed è… ed è un sogno che a parole è riduttivo spiegare. Pensa a poter vincere una medaglia, cosa… che sensazioni, che emozioni si possono provare? Prova a raccontarmelo. Ma Pechino è stato… allora io ho provato ad Atene, mi hanno portato le Olimpiadi ad Atene ed ero l'atleta più giovane del ciclismo. Lì ho avuto un'esperienza molto contrastante, molto difficile perché è stata dura per me, arrivavo… ero troppo emozionata per l'evento che era. Ho fatto una gara secondo il mio punto di vista sotto tono. Quando sono tornata a casa ho detto fra quattro anni io mi troverò pronta perché adesso so come gestire l'emozione. Una bugia che mi sono detta perché le emozioni fortunatamente non si riescono a gestire, ma si possono solamente vivere e però a Pechino mi sono trovata pronta. Dopo varie vicissitudini anche lì precedenti rischiavo di rimanere fuori perché comunque i posti erano ancora meno di adesso erano solo tre, però dopo la convocazione mi sono trovata pronta e sotto un diluvio universale, cioè dieci giorni prima, caldo, sole, un'affa assurda. Il giorno del Mondiale e il giorno delle Olimpiadi siamo partite, mi hanno fatto i primi santa chilometri, un sole della Madonna, gli ultimi 50 un diluvio, una cosa assurda, ma stavo bene e mi ero ripromessa di partire proprio con un unico obiettivo, dare tutto, rischiare di perdere per cercare di raggiungere un sogno. E' arrivato un sogno ed è arrivato una volata a ranghi stretti, però per una che non è proprio velocissima o comunque mi hanno inculcato che non ero veloce perché poi… Ma sai, questa del non veloce dopo certi tipi di corse, dopo certi tipi di chilometraggi… Cambia. Cambia, cambia, quindi vengono fuori le motivazioni, l'esperienza, il fondo e quindi… Cosa ti ricordi Paolo? Di… ma Pechino io l'ho visto in televisione, non ero ancora in nazionale e come dice lei, il ciclismo era comunque nella mia vita. Esattamente. E tutta Italia fa il tifo per l'atleta, come dice lei, che sia ciclismo, che sia un altro tipo di sport e quindi è davvero un evento globale e quindi è qualcosa che ti alzi la mattina e il primo pensiero davvero è l'Olimpiade. Io questa che farò è la quarta, però ti dico non cambia nulla, anzi più ne fai e più diventi consapevole dell'evento che è, quindi non è facile, anche se è una sfida che ti porta a dare il massimo. E allora, parlando proprio di Olimpiadi, entriamo nell'attualità. Abbiamo detto che quest'anno ci sarà Parigi 2024, quindi grandi aspettative anche come nazionale italiana, perché per fortuna abbiamo detto c'è abbondanza di atlete e quest'anno i posti sono tre. Quattro. Quattro. Quattro, siamo secondi nel ranking, quindi quattro, sì. Quattro posti che vanno conquistati. Chiaramente conquistati, quattro posti di atlete che in quel giorno devono essere capitane gregarie nello stesso momento, perché l'Olimpiadi è una gara particolare dove si corre in 80 corridori, 30 dei quali saranno out dalla gara subito, perché sono di nazioni non a livello nostro o europeo o delle nazioni di primo livello. Qualche nazione viene solo per partecipare, diciamo, è la vittoria, come dicevi prima, è la vittoria solo partecipare, però quelle ragazze lì, diciamo, con il livello che c'è adesso soprattutto, probabilmente dopo pochi chilometri. No, possono diventare un problema e quindi ci sarà una partenza tutte davanti, magari una partenza abbastanza forte in modo da svoltire il gruppo e stare tutti più tranquilli subito. Sei andato a vedere il percorso? No, andiamo con il CT Bennati e il CT Velo il giorno dopo della Sanremo, quindi il 18. Ok, quindi a brevissimo. Però l'hai studiato sulla carta? Sì, ormai sulla carta Velo Viore si vede tutto. È, dal mio punto di vista, una classica e quindi le classiche daranno già un risponso. tante ragazze stanno seguendo un po' la mia idea di avvicinamento a questo e ci sarà anche il Giro d'Italia che sarà perfetto. Qual è la tua idea di avvicinamento? Ma la mia idea di avvicinamento è sicuramente... Andare forte sempre? No, andare forte alle classiche perché... Le classiche già diranno qualcosa proprio perché hai detto che il percorso è simile a una classica. Ci sarà un tratto in linea e poi un circuito da ripetere più volte. Tre volte con tre volte lo strappo di un chilometro di Montmartre che sarà sicuramente determinante anche se dopo ci sono nove chilometri all'arrivo lungo la Senna, quindi determinante ma non decisamente determinante dal mio punto di vista. Importante ma forse non decisivo, una gara aperta a tante soluzioni e a tante atlete, ma l'Olimpiade, Tatiana, mi insegni che è una gara molto particolare. Si arriva dalle ultime Olimpiadi dove ha vinto una ragazza che nessuno si aspettava, Anna Kiserhofer. Le teste di serie si marcavano, le due nazionali faro che sono Italia e Olanda e non ci nascondiamo se sono guardate, vai do io che vai tu, il problema abbiamo detto anche dei numeri perché ci sono poche atlete partecipanti, non c'è la solita squadra formata da 7-8 ragazze ma ci sono quattro atlete, chi parte con tre, chi con due e lei è andata. C'è da gestire anche questo. Ma sì, come ha detto l'Olimpiade il numero è molto ristretto, quattro atlete, devi portare quattro atlete che in base al percorso devono essere in grado di mettersi a disposizione nelle compagne, fare il leader e se serve essere anche velocista o scalatore, cioè devi essere in grado di fare tutto, un atleta completo e soprattutto, dunque devi portare quattro atlete veramente tutte e quattro, quattro punte, quattro galli sul pollaio. E lì ti voglio, il tuo, cioè sarà difficile quest'anno portare via quattro atlete, cioè difficile, per fortuna ne hai tante buone, però abbiamo detto che l'ultima, la salita è uno strappo, la gara è difficile, potrebbe essere perfetto per una Longoborghini che attacca, che fa gara dura, ma una balsamo, che comunque tiene su un percorso misto, ma è anche veloce, che ne fai, non la porti via. Poi ci sono... No, bisogna riuscire in quattro atlete a coprire tutte le situazioni. Persico è un'altra che va forte su questo tipo di percorsi, abbiamo la Cavalli che se la ritroviamo è un'altra testa di serie. Ce ne sono tante, a fare i nomi dopo magari si dimentica qualcuno, però... No, certo, no, perché questo è un anno particolare, se lui mette un nome, non mette l'altro, non dice un nome, non dice l'altro. No, ma da atleta io andavo in panico se per caso diceva, cioè il tecnico diceva due nomi tanto per iniziare, ma non che decideva i nomi in un'intervista così. No, 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 ma adesso ho detto i quattro nomi che vanno per la maggiore, ma poi abbiamo la Gasparrini che ha vinto l'altro giorno. No, ma è per questo che lo vedo molto. No, no, ma è logico che se guardo dietro i nomi che sono stati fatti sono quelli. Poi bisognerà anche capire, a seconda della caratteristica, se la più veloce olandese e la più veloce italiana sono insieme sugli arrivi delle classiche, sono contento. Se poi la più veloce italiana arriva prima della più veloce olandese, sono ancora più contento, capito? Il contrario no. Ascolta, tu mi parli delle classiche che però sono qui ad aprile, insomma, no? L'Olimpiade è ad agosto. Sì, io quello che voglio fare è fare le classiche in tranquillità alle ragazze. Sì. Dopo di quelle, ai primi di maggio, andremo con un gruppo allargato a vedere il percorso in modo che ognuna si possa anche rendere conto e, tornando al discorso di prima, avere la maturità di alzare la mano e dire non fa per me o dire fa per me. E poi dopo ci sarà, come ultima indicazione, anche se non vorrei arrivare fino lì, il giro. Perché il Giro d'Italia sarà un giro molto particolare, dove magari anche atlete straniere che sono di punta. Se lo corrono, magari lo corrono preparando l'Olimpiade. In funzione di... E quindi bisognerà anche noi uscire increscendo dal Giro d'Italia, non uscire incalando. Il Giro d'Italia che sarà dal 7 al 14 luglio. Le Olimpiadi inizieranno il... Saranno il 4. 3 settimane. 3 settimane. Che sono... Sembrano tante, ma sono poche per recuperare e poi riprendere una condizione, quindi... Quindi, tenendo conto che le nostre ragazze, insomma, le forti partecipano a tutto, no? Vanno forte alle classiche, vanno forte nei grandi giri, vanno forte nei grandi appuntamenti. Siamo diversi rispetto agli uomini che hanno una programmazione diversa, no? Un'Olimpiade, ti stravolge la programmazione annuale? Ma, per quelle che puntano alle Olimpiadi, sì. Cioè, puntano alle Olimpiade. Dunque, tutte le altre gare che prima potevano essere il punto focale della stagione, diventa... Di preparazione. Gradino numero due. Poi, un atleta è sempre un atleta, nel senso... Sì, l'Olimpiade ha messo la X, però... Almeno, io personalmente mettevo più X durante la stagione. Uno, per darmi degli obiettivi in modo da dire, ok, vediamo se sto migliorando e arrivo pronta a fare determinati lavori che mi servono poi per raggiungere la miglior condizione. Ma anche perché per il morale serve risultato. Dunque, sicuramente, le atlete che puntano alle Olimpiadi hanno come X enorme quel giorno, ma ne hanno sicuramente altri per la testa, perché serve motivarle, perché serve risultato, perché comunque la squadra richiede determinate prestazioni anche durante la stagione. Invece, per quelle che non possono auspicare le Olimpiadi, quest'anno sono più contenti perché dicono, le big puntano alle Olimpiadi, forse abbiamo un po' di possibilità. Però ecco, per esempio, adesso anche con il fatto che c'è molta più tecnologia, si riesce ad arrivare a picchi di forma in maniera più anche precisa, no? Si riesce a calcolare meglio il picco di forma in tot periodo, e poi riposo, poi insomma ci si programma meglio. Però, come dicevi tu, Paolo, ecco, magari il Giro d'Italia quest'anno arriverà in tante, ma essendo a tre settimane proprio dal via delle Olimpiadi, qualcuna dovrà arrivare magari al 90%. Sì, io ero una di quelle che nel Giro d'Italia arrivavo leggermente più indietro proprio per riuscire a dare l'ultimo lavoro completo e duro e massimale, perché comunque non ti nascondi, poi se ci sono tre settimane di distacco dal Giro alle Olimpiadi, bisogna gestirle bene. Eh, sono lunghe, non è poco ma non è neanche tanto. Non è neanche tanto perché se esci in calando non la ritrovi la condizione dopo. No. È vero il contrario, che se esci in leggera ascesa dal Giro, puoi fare bene le Olimpiadi e magari qualcuna pensa anche al Tour dopo, quindi bisogna incastrare bene. Le ragazze lo sanno, ho fatto recentemente un Giro con tutti i team manager, anche delle squadre straniere, sono stato in Spagna da loro perché credo che la mia presenza dia anche un po' più di peso specifico a loro nelle squadre straniere e magari riescono a avere qualche spazio in più durante le gare e non solo lavoro di gregariato. e credo è visto anche da… È trovato apertura, insomma. Sì, anche da squadre importanti. Anche perché le nostre ragazze, le più forti, sono tutte in squadre grosse, World Tour. Sì, sì, ma loro vedo che se tu dai una programmazione loro la condividono e quindi sono… Forse la preferiscono anche. Sì, è così. Almeno sanno cosa la nazionale, la federazione vuole dall'atleta e si riesce a collimare su un obiettivo comune. È più facile dialogare con le squadre adesso o in passato? Ma guarda, gli interlocutori in Italia sono praticamente gli stessi e quindi ci conosciamo da una vita, quindi bene. Con l'estero è un discorso che ho voluto fortemente io avere perché, ripeto, io voglio dare importanza alle ragazze che corrono fuori. Un team manager italiano è logico che ha un occhio di riguardo di più per un italiano. Un team manager olandese è logico che ha più occhio di riguardo per un olandese. E quindi un pochino voglio aiutarli in quello e far capire che il CT c'è da gennaio fino alla fine dell'ultimo evento. Hai parlato di Olanda, questa rivalità Italia-Olanda che esiste ormai da decenni. Sì, che poi quest'anno continua, però con un corridore come la Coppeci che è belga che dal mio punto di vista è... Cambia gli equilibri. Attualmente è il corridore più forte. Lei ha perso il mondiale Wollongong per un'intuizione della Van Vleuten che sembrava morta tutta gara e quando fa così lei diventa pericolosa. Infatti, se no, credo che la Coppeci portava a casa anche il mondiale dell'anno scorso. Ah sì. E quindi sì, Italia-Olanda, però con un corridore in mezzo molto... Attenzione alle individualità. Esatto. Sempre tenendo conto che poi l'Olimpiade è quella gara particolare dove appunto ci si può guardare. È un'altra gara. È un'altra gara. È un'altra gara. A sé. Cioè puoi fare tattiche, puoi mettere giù un piano perché comunque è giusto. Però soprattutto nel ciclismo l'Olimpiade c'è molte emozioni per l'atleta di per sé, ma nel ciclismo essendo in quattro, cioè non è uguale a come corri di domenica quando te ne trovi hai sei atlete, dunque sai che hai sei compagni di squadra che ti possono dare una mano. Le altre squadre hanno altrettanti atleti, dunque c'è un numero completamente diverso che ti permette di fare un gioco completamente diverso. Invece le Olimpiadi sono in quattro per cinque nazioni. Esatto. Poi diminuiscono di conseguenza, ma i chilometri... Quali sono? Sono quelli, sono sempre 154 in questo caso. Sì, come hai detto tu a Tokyo è stato premiato il coraggio perché in quel momento lì è partita la fuga e nessuno pensava che arrivassi in fondo e una è arrivata in fondo. Sì, di un atleta che tra virgolette non si... Un'atleta normale. Non si dava quel peso. No, no, no. Neanche lei penso. Non se l'aspettasse. Però ci ha creduto perché... Ma è bello del ciclismo, dai. Sì, sì. È il brutto anche. Eh, va bene. Da atleta Tatiana. Facciamo finta che finale delle Olimpiadi di Parigi, le nostre italiane, tutte e quattro sono lì, sul vivo della corsa, che possono giocarsi una medaglia. Chi rinuncia? Cioè, come si fa a decidere in gara? Perché dopo penso ci sia un dialogo anche fra le atlete in gara, no? Rinuncio a qualcosa di mio per favorire te perché te sei un pelo più veloce perché... Per tanti motivi. Cioè, l'Olimpiadi viene ogni quattro anni. Cioè, per Longoborghini che adesso quanti anni ha Elisa? 33. È del 91? 92, non mi ricordo. Vabbè. Si riparla che rifarà le Olimpiadi tra altri quattro anni. No, il discorso è anche il percorso se è adatto a me o non adatto a me delle Olimpiadi, quindi... Sì, ma facciamo finta che siano tutte lì. Eh, vabbè, il sogno del tecnico. Tutte lì, tutte e quattro, negli ultimi chilometri. Solo loro quattro? Solo loro quattro. No, vabbè, ci sono anche altre ovviamente, però qualcuna deve rinunciare a qualcosa, deve mettersi a disposizione, ecco. È difficile, no? Ma... Eh, vabbè, ma stai parlando con una che lo ha fatto tante volte. Che lo ha fatto la nazionale italiana negli ultimi anni. Nel senso, arrivi lì che tu percepisci come stai tu e determinate atlete, cioè in quel momento lì ti fidi anche delle tue compagne, perché comunque si crea un legame in quella gara. Nel mio caso bastava uno sguardo, capivo benissimo chi poteva essere più forte, se una delle tre era più forte di me. Cioè, non è perdere niente, non è che sì, ti togli una minima possibilità per dare all'Italia la possibilità di guadagnarsi, di vincere la medaglia più bella. Dunque è un piccolo sacrificio per una grande nazione, si dice così. No, no, ma in questi anni è stato così. Ma questa è una cosa grandiosa se ci pensiamo, no? Perché è un evento che viene ogni quattro anni, non è detto che fra quattro anni tu sarai lì nella stessa squadra a giocarti le stesse possibilità. Mettersi a disposizione di un'altra, di una compagna... Eh, ma parliamo adesso di ragazze, atlete, professioniste, mature, quindi... E consapevoli. E consapevoli. Io non ho dubbi che questo possa accadere, quindi... Ma io, dei nomi che hai fatto, insomma, delle atlete che ci sono, dei nomi che hai fatto, non ci sono proprio persone che non farebbero un passo indietro se vedono la propria compagna di squadra che sta meglio. Perché proprio in quel momento lì non pensi, in quel momento lì... Vuoi il massimo per la squadra? Lì non pensi, non pensi a te, lì sei oltre. Pensi al miglior risultato da portare a casa e quando vedi l'atleta che è una tua compagna di squadra che va sul podio, cioè tu sei lì, la gente non ti vede perché vede solo l'altra atleta. Ma tu sei lì? Non esiste l'invidia, la gelosia, ma potevo essere cio e invece ce l'hai. No, a menti che quello potrebbe risuccedere negli anni, dici, però se avessi fatto... Ma sono dell'idea che se ti ricapitasse la stessa situazione, cioè se potessi tornare indietro e ti ricapitasse la stessa situazione, ti comporteresti alla stessa maniera. Perché fortunatamente vivi di emozioni, non vivi di testa. È questo il valore aggiunto dell'Italia? Deve essere questo. È questo che fa la differenza, che ha fatto la differenza negli anni scorsi? Perché l'Olanda si perdeva tante volte? Perché non ragionano come noi? Eh, ma è quello. Torniamo al discorso di prima. La maglia deve essere un qualcosa di sacro e quando l'hai indossata devi fare tutto per la maglia, che vuol dire anche lavorare per una tua compagna, che in quel momento lì, se ti dice che sta bene, vuol dire che sta bene. Questo deve essere lo spirito. Certo. Giro d'Italia. Hai visto il percorso? È un giro bello impegnativo, diciamo, sì. È un giro nuovo perché quest'anno passa in mano RCS. C'è anche tanta curiosità nel vedere la nuova organizzazione. Certo. Un passaggio obbligato dal mio punto di vista per competere col Tour de France, che è un po' quello che succede con i maschi e quindi ci voleva. Anche per loro per il recesso è una novità e quindi è un po' il debutto, però loro sono organizzati, quindi problemi non ce ne saranno. Sono molto curioso, anche perché con questo tipo di finale noi abbiamo i corridori adatti per fare bene e dal mio punto di vista con la Van Vlietten fuori dal gruppo si comincerà a correre in modo un po' diverso. Vuoi, perché lei era in certe situazioni talmente più forte che schiacciava tutti. Ultimamente non lo è stato perché l'anno scorso l'abbiamo visto. E vuoi perché ormai le squadre femminili fanno magari anche parte delle squadre maschili, quindi la mentalità si sta un po' trasportando sul modo di correre anche da noi. Prima dicevi, qualche atleta che non punta alle Olimpiadi sarà contenta perché appunto avrà più spazio. Una Realini, a me è venuta in mente la Realini. Forse lei non è da Olimpiade, forse non rientra. La metterai magari nella rosa che va a vedere il percorso e quant'altro. Non parlare, non parlare. Parlo io, parlo io. Ma io ho pensato a una Realini anche come possibile vincitrice del Giro d'Italia, perché comunque il Giro quest'anno è duro. È un arrivo, la penultima tappa sul blocausa, una salita veramente lunga, insidiosa e adatta a un atleta come la Realini. L'anno scorso ha fatto vedere grandi cose. Lei, liberata la mente da appunto l'Olimpiade, perché non penso appunto magari farà parte della squadra delle Olimpiadi, potrebbe puntare a un giro. Dove può arrivare una Realini con un giro così duro? Allora, Gaia sta lavorando, perché sta lavorando sui punti deboli, che sappiamo, sa lei, che si sono visti al Tour dell'Avenir l'anno scorso, che è la discesa. Ma lei ci sta lavorando, quindi io non gli metterei troppa pressione su questo. È vero anche che il blocausa è una salita che lei fa tre o quattro volte a settimana, quindi conosce tutto. È vero anche che in una situazione, in una squadra come la Trek, si può trovare magari un paio di ragazze e compagne che la aiutano in discesa. Quindi sì, può davvero fare il colpaccio, come vedo bene Elisa Longoburghini o Marta Cavalli, credo. Non dimentico anche le scalatrici come Erika Magnaldi, che sta crescendo ogni anno. Che anche lei potrebbe fare il ragionamento di Realini, no? Sì, pensando anche a un mondiale che andremo a vedere. Anche quello non è impossibile, ma è per ragazze che in salita va forte. Quindi ho parlato con un po' tutte, dando i miei obiettivi per loro e cercando di capire se li condividono o no. Quindi vediamo se si viene fuori qualcosa di importante da questo. Credo che il dialogo, il parlare e dare obiettivi sia importante per un atleta di questo livello, con un calendario talmente fitto che non si può più davvero improvvisare. No. Realini può puntare? Sicuramente sì, è un atleta che sta dimostrando di crescere continuamente e di raggiungere delle condizioni veramente che le consentono di fare grandi cose. Un giro duro così, con tante salite, diciamo che lei è una di quelle che si può giocare il giro. Poi credo che sia tanto giovane e questo è in una squadra importante dove ci sono anche una situazione di gestire le varie atlete. In base a chi si troverà davanti o prima in classifica nella track, le altre devono mettersi a disposizione, suppongo, parlando così. Ma sicuramente è un atleta che da qui al futuro può vincere un giro d'Italia. Con grandi margini di miglioramento mi verrebbe anche da pensare. Esatto, non bisogna dargli troppa pressione. Anche il fatto che corre in casa alle ultime tappe è una cosa per noi anche bello, però per lei è una cosa che mette pressione. Io da ciclista ho sempre odiato correre vicino a casa. Vedi, è così. Senti la pressione. Ma ti fai molte più… senti tante voci anche di persone che non conosci che gridano il tuo nome in mezzo al gruppo. E ti emoziona questa cosa. Pensi di dover dimostrare anche per forza. E probabilmente ti carichi di pressioni che la gente non ti dà, ma ti autopunisci, infliggi. No, poi lei è una meticolosa, una che si allena… Sì, l'ho vista, molto determinata. Che fa qualcosa in più piuttosto che in meno. Quindi qualità qua che non ci si conosce proprio perfettamente. Ancora è meglio stare un po' tranquille. Il discorso che faccio con le juniores. Le juniores sì, è la prima categoria internazionale. Bisogna cercare risultato perché la nazionale italiana va per cercare risultato. Però bisogna guardare avanti. Il fatto che le porto a correre all'estero. Stai facendo un bel lavoro con le juniore, appunto. Sì, è una cosa che… Hai puntato molto su questo. Voglio far trovare ragazze pronte. Sapere cosa succede, cos'è il Belgio, per esempio. Cos'è il vento, cos'è il pavé, cosa sono le cote. che ti fanno… Prepararle alla categoria maggiore. Tatiana, dal mio punto di vista, se non avesse corso l'Olimpiade prima, è arrivata da giovane, è arrivata all'Olimpiade dopo a Pechino, già consapevole di cosa andava incontro e di come preparare la cosa, infatti. Sì, sì, sì. No, no, infatti il poter avere esperienze prima, dunque visionare percorsi o provare determinate gare prima, senza avere la pressione o senza dover lavorare per le grandi squadre, nel senso che comunque da junior è più una cosa leggera, ti consente di essere più preparata o di gestire meglio il passaggio negli anni più importanti dove comunque devi dimostrare ma non sei ancora pronta, c'è chi è più sviluppata e più pronta di te e il passaggio con le squadre nuove, determinate incastri che devono andare tutti con il tempo a posto, ma se ti danno la possibilità di poter fare queste esperienze è solamente cosa buona. Vedo, faccio un nome su tutte perché mi viene in mente la Francesca Barale, lei è 2003 e ha fatto questo tipo di percorso e vediamo già che è protagonista nelle gare. Terza anche l'altro giorno, no, aspetta, era la... Sesta l'altro giorno però è sempre davanti, e non è facile col livello che è attuale, lo sappiamo, quindi... A proposito di giovani, su chi punti non si possono fare nomi, l'abbiamo detto, quali possono essere le sorprese, insomma abbiamo Masetti, anche l'Aventurelli penso, no, che ha già vinto tantissimo tra le giovanissime e adesso corre per la Devo della UAE, si appresta anche a fare qualche gara tra le grandi, ce ne sono tante. Prendiamo l'esempio dell'Aventurelli che è probabilmente il nome più altisonante, corre in una Devo, le Devo servono per crescere, quindi anche lei diamogli il tempo di fare le sue esperienze perché il salto è un salto importante, quindi non si deve demoralizzare se le cose non vanno bene, non deve esaltarsi troppo se le cose vanno troppo bene, capito? Quindi ci sono le giovani, stanno crescendo. Dimmi qualche nome che devo magari scrivermi per i prossimi anni. Tutti parlano di Federica Aventurelli perché ha dimostrato anche in pista che è già un'atletà pronta, però ti posso dire Barale, ti posso dire Gasparrini e ti posso dire Barsamo. Gasparrini che ha già vinto fra l'altro. Ti dico Barsamo, Barsamo ha 25 anni, quindi sono giovani con sonni, quindi stiamo parlando di un ciclismo giovane. Dai, ma nomi, nomi, Tatiana, dai, tiragli fuori tu i nomi, nomi di non ragazze che abbiamo già sentito. Ormai Gasparrini ha vinto già qui, a inizio stagione. Ma c'è una ragazza che sta crescendo bene, si chiama Adelaide, probabilmente si chiama Adelaide. Tra 18 anni. E quindi, questo è il nome. Una Masetti, Tonelli ha cambiato squadra, anche queste ragazze qua possiamo... Tonetti. Abbiamo davvero tante ragazze giovani e non è una battuta quella di Elisa Balsamo, che è già stata campionessa del mondo e sembra che sia... Perché è da anni che ce l'abbiamo già... Esatto, però lei è giovane. Nella bocca, ma era quello che succedeva a me. A 23 anni erano già stanchi di sentirmi, perché ancora sta guderzo. E per fortuna. Tante... E io ti dico, c'è questa generazione che è ancora giovane, quindi avrà tanto da dare. Ma non si devono montare la testa? No, quello sono sicuro di no. Lui non fa i nomi di altre giovani perché vuole tenerle tranquille. Ma è giusto così. Ma lui sul taccuino ha scritto i nomi delle ragazze da osservare, me lo dirà dopo, ce lo dirà dopo. Sì, sicuramente non vuole dire qualche nome, ma ha già individuato qualche atleta. No, ci sono anche delle atlete... Ma è giusto così, nel senso... Il primo anno juniores o al secondo che in Italia sono molto forti. L'obiettivo mio è quello di correre all'estero per capire quanto sono forti rispetto alla concorrenza straniera. Perché succede che magari siamo fortissime, andiamo al mondiale e ci troviamo davanti a una montagna. Non succede perché ormai si conoscono. Andiamo a correre assieme e si conoscono mai le ragazze. Qualche domanda così perché dobbiamo anche chiudere, ma te le faccio. Persico quest'anno non fa la stagione di ciclocross. Scelta giusta o sbagliata? Si vedrà. Si vedrà. In base come entra in stagione rispondo io. Non credo che fare il ciclocross sia una cosa negativa. Certo, prendiamo gli esempi di Van der Poel, Van Aert, perché sono forti. Però dal mio punto di vista non fa male di sicuro. bisogna riuscire a programmare. Quest'anno ha deciso di saltare proprio la stagione di cross, quindi lei vuole concentrarsi sulla strada. È già una scelta importante la sua. Credo che abbia nella testa i giochi olimpici, quindi si stia mentalizzando su quello. Elisa Longo Borghini, lo scorso anno finale di stagione travagliato il suo, quest'anno si deve ritrovare anche lei? No, io credo che... Ritrovare? Parolone? No, lei... Cioè, l'abbiamo già ritrovata, mi sa, eh. Ad oggi avrà voglia di correre, perché ha corso meno l'anno scorso rispetto agli altri anni e quindi ha voglia di capire... Perché lei... Ricominciare. Ricominciare. La rivedremo, insomma. La rivedremo. La rivedremo. Signiamo anche Longo Borghini. Marta Cavalli l'anno scorso ha ricominciato pian pianino, si è ritrovata con una vittoria da giugno, finale di stagione buono, ma non è stata la Marta Cavalli del 2022 che ci ha fatto sognare. Anche lei per l'anno prossimo, quest'anno, scusate, non le vogliamo dare pressione. Marta Cavalli che atleta è, secondo te? Marta Cavalli è un'atleta che ha dimostrato di vincere le classiche e di poter vincere i grandi giri. È logico che lei ha avuto quello che io chiamo un incidente di corsa. Questa ha avuto un incidente stradale, è stata investita e quindi con tutto quello che ci può essere dietro, anche a livello mentale. È quello il problema più grosso. Ci ho parlato ultimamente e lei sta bene, quindi io credo che quest'anno ritorni... Ed è giovane anche lei, quindi... 98 anche lei, quindi... Davvero abbiamo un ricambio che durerà ancora per dieci anni, quindi... Barbieri, passata la DSM, scelta giusta la sua, troverà la call, si formerà una bella coppia per le volate. Barbieri ogni tanto potrà dire la sua, una call che è olandese in una squadra olandese. Eh, c'è spazio, sicuramente. Poi la tendenza è di avere come ultima donna una velocista vera, come succede negli uomini. E quindi è logico che la DSM, avendo perso la Vibers, doveva rimpiazzare con una di livello. e Rachele ha dimostrato di essere una delle più forti velociste al mondo quando è in condizione. Quindi la scelta va bene perché permette anche di avere una crescita che magari ristando nella tua comfort zone non avresti. L'esperienza anche di cui parlavi prima. Esatto. Quindi aspettiamo anche lei. Tatiana, ciclismo femminile è cambiato tanto. Cioè tu sei passata la Fassa Bortolo che era una realtà piccolina a conduzione familiare. Adesso ci sono gli squadroni. Ora vado al Giro d'Italia delle donne e non capisco se stiamo parlando di femminile o maschile perché è la stessa identica cosa. Bus, 20 persone che fanno parte dello staff, una volta a malapena avevamo un massaggiatore un direttore. Questo cambiamento tu che l'hai vissuto da dentro perché è smesso nel 2022 non è che è smesso cent'anni fa è appena smesso quindi hai fatto in tempo a vederlo a viverlo a viverlo come lo vedi e cosa ne pensi? Ma vedo mi fa piacere perché finalmente anche nel femminile c'è una struttura ci sono tante squadre importanti dietro che possono dare un appoggio concreto alle ragazze dunque questo è un bene mi fa paura perché vedo tanti sponsor tanti tanti squadroni ma non vedo tutte queste atlete dietro che possono colmare la domanda di questi squadroni mancano i numeri ancora io ho timore e qualità anche forse io ho questo timore di che si stia correndo più veloce di quanto le atlete possano crescere nel senso che ho paura che si vada a pescare nel piccolo nelle giovani e vadano a bruciare determinate tappe per riempire dei buchi che forse ancora non siamo in grado di colmare è una paura penso anche la mia sono d'accordo con lei perché finalmente noi abbiamo la dignità che meritiamo e quindi contratti organizzazione e il resto però non bisogna dimenticare le squadre continental che fanno crescere le ragazze tu parlavi di di Lucio Rigato e tante ragazze passano da lui e poi vanno a correre non è un esempio lei si però adesso magari la scelta per una world tour cosa fai non corri più noi dobbiamo salvaguardare queste realtà che sono la base e adesso vengono schiacciate da queste potenze questo è il problema adesso ci sarà anche l'introduzione nel 2025 dei pro team che anche lì daranno un altro giro però credo che alla lunga i valori e le cose importanti verranno fuori speriamo bene sicuramente il ciclosmo femminile è cambiato tanto in questi anni adesso le generazioni di adesso sono fortunate si può dire noi abbiamo fatto la galetta è sempre così chi arriva dopo ha sempre un qualcosa in più e incrociamo le dita mi fa piacere che loro riescano ad avere la visibilità che io tanto speravo ed è giusto che che continuino loro a lottare per avere sempre di più e per avere ciò che meritano nel reale perché i sacrifici ne facevamo tanti ne fanno tanti e dunque devono essere ripagati la cosa che a me ultimamente ha colpito è stata la festa per i 50 anni dell'edizione del trofeo Binda di Cittiglio dove c'erano le prime donne ormai che avevano vinto la gara e Longo Borghini è interromuta ringraziandolo dicendo che se noi siamo qua adesso è per merito vostro e tutto quello che ne consegue è quello quindi idem per le nostre giovani dobbiamo ringraziare una Buderzo una Bronzina una Bastienelli tutti quelli che siamo arrivati a questo perché ci sono state delle lotte importanti e io spezzo anche una lancia rispetto alla federazione sono anni ormai che il premio del mondiale è equiparato a quello dei maschi e credo anche lì si è fatto un bel salto e siamo arrivati prima grazie siamo arrivati prima dei contratti delle world tour quindi minimi salariali uguali quindi anche a livello federale è stato fatto qualcosa di importante soprattutto anche perché c'era qualcuno che premeva sotto per i premi si ho lottato di vero però è una cosa che ci dà dignità ah sì finalmente dal 2016 con l'ingresso del world tour è cambiato tanto sta cambiando tanto cambierà ancora tanto è in continua evoluzione è in continua evoluzione rapida fa un po' paura ma speriamo in bene insomma io a volte dico spero che adesso i rubinetti non siano troppo aperti e che qualcuno non vada a chiudere tra qualche anno speriamo di no perché le donne hanno bisogno di visibilità ce l'hanno adesso finalmente e hanno bisogno di crescere hanno bisogno di sostegno soprattutto ma sicuramente sì abbiamo bisogno di che la gente creda in noi e che sia una cosa concreta e loro lo dimostrano su strada le nostre ragazze a suona di pedalate di risultati e di gare che sono avvincenti perché va detto le gare delle donne sono belle adesso stanno diventando veramente emozionanti ragazzi siamo in chiusura non andiamo oltre se no ci mandano fuori Tatiana i tuoi programmi è cambiata la tua vita perché la tua bimba ha da poco compiuto un anno no compirà un anno tra a febbraio a febbraio sì e Adelaide Adelaide sì 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 sarà fra 18 anni la nuova atleta no è cambiata totalmente sono mamma cambierà anche l'aspetto lavorativo perché andrò a lavorare tra poco ma ho una bambina che mi fa emozionare ogni giorno e mi tiene attiva dunque dai va bene così sono felici ma Adelaide perché Adelaide ma è un nome è un nome forte è un nome nobile è un nome che le sta bene che io e il papà quando abbiamo sognato di avere una bambina avevamo è una cosa che non si può dire ascolta ma il secondo nome che avevi pensato per lei no siamo entrati in ospedale che o era Adelaide o era Azzurra infine siamo siamo atterrati su Adelaide perché comunque era un nome che avevamo già pensato da da prima un nome che che sentivamo dentro se fosse stata bambina perché lui l'ha scoperto invece fosse stato maschio il nome era o Cristian Sebastian Paolo in chiusura i programmi con la nazionale cominceremo con le junior in primavera correre all'estero poi faremo il sopralluogo a Parigi e poi prima di Parigi faremo un collegiale con le olimpiche perfetto avete tanto da fare io vi ringrazio per essere stati qui è stato un piacere penso vi richiamerò perché ho ancora tante cose da dire con voi e per parlare di ciclismo femminile grazie ancora grazie a te grazie a te